Il GIP ha archiviato tutte le accuse nei confronti della dirigente Asla e consigliera comunale Liliana Maglitto, difesa dall'avvocato Giuseppe Russo. A querelarla per violenza privata era stata un'infermiera che sosteneva di essere stata chiusa nel suo ufficio all'ospedale Castelli contro la sua volontà per sottoporsi a un colloquio, al quale la dirigente non aveva permesso di partecipare la rappresentante della RSU che l'aveva accompagnata. I fatti risalgono al 30 luglio del 2015. Il GIP ha rilevato che non avendo chiuso la porta chiave l'indagata non aveva impedito all'infermiera di uscire, ma anzi fu lei stessa, dopo i primi momenti di resistenza, a trattenersi per un lungo colloquio. La conversazione fu registrata dall'infermiera. La vicenda era stata piuttosto lunga. Inizialmente rinviata a giudizio al momento del processo, emerse che i capi di imputazione erano completamente errati. Riguardavano infatti un furto di rame, così il giudice l'assolse e rimandò al fascicolo in procura. Il PM, dopo aver sentito la testimonianza, ha deciso di chiedere l'archiviazione alla quale la parte offesa si è opposta con l'avvocato Gabriele Pipicelli. Il GIP ha deciso per l'archiviazione.